Mary Jane ASMR Ciao Ciao Sono molto contenta di essere qui oggi perché questo sarà un video dove porto assolutamente trigger mi fanno impazzire tutti anche gli altri non mi piacciono però in questo video c'è il concentrato alcuni di quei trigger visual trigger che a me piacciono parecchio due trigger anzi tre tre oggetti sono nuovi qua sul canale uno proprio mai visto nemmeno nelle mie live quindi preparatevi spero venga bene questo video ragazzi spero di rilassarvi al dovere spero stiate tutti molto bene che tutto proceda per il meglio e se così non dovesse essere spero tutto si possa sistemare al più presto perché tutto si sistema allora avete già indossato gli auricolari spero proprio di sì partiamo con il primo trigger sul trigger per la rela sono delle piume di bavone ah no, questi disegni sono in plastica, sono bellissimi, decorativi ticca 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 tick 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 ticca 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 Grazie a tutti. Dorme pozzesco. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Mi piace un po' è una scoperta questa ragazzi per me, ma l'ho adoro. Quando guardo queste piume, ripeto che sono finte, sono di plastica. E' da un po' di tempo che quando le guardo sospetto che potessero essere un valido trigger per l'SMR, perché sono belle anche da vedere. Prima o poi ve le dovevo far vedere. Queste ce le ho in un vaso da terra assieme a delle rose rosse. Naturalmente finte, ma adesso passiamo al secondo trigger. Il secondo trigger è nuovo, che porto qui su YouTube, ma non la prima volta che lo vedete perché lo porto in live nella piattaforma viola. è il diapason. L'ho visto in qualche altra live e mi sono subito innamorata. E' molto particolare come suono perché può piacere oppure lo si può odiare. Alcuni ti sostengono molto facilmente. Io sono impazzita letteralmente, a molti piace, quindi credo che valga la pena portarlo sul canale. Emette vibrazioni a bassa frequenza. Questo è un diapason C28C perché, scusate, 128C. Ogni diapason emette una frequenza diversa. Mi pare di aver capito. Non sono esperta in materia e cambio appunto il numero che troviamo scritto qua sotto. E' fatto in questa maniera. Come potete vedere, da qui si possono regolare queste palline. E va battuto in questa zona qui. Ed avete vibrazioni. Viene utilizzato anche in olistica. Lo trovo pazzesco per l'SMR. Quindi, pronti? Siamo in questo momento. Io sono in questo momento. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Beneficio per le vostre orecchie. Grazie a tutti. 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 E questo era il di Abason che vi ho fatto ascoltare per la prima volta qui su YouTube. Ora passiamo al terzo trigger che è un tapping fatto su questo bellissimo bicchiere. Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti.